Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. A tutti i bambini della valle è dedicato il laboratorio Magico Natale Tutto da Sfogliare, organizzato per venerdì 18 dicembre presso la Biblioteca di Albino. Un divertente pomeriggio con letture animate e laboratori creativi per bambini da 4 a 7 anni. Sabato 19 dicembre sarà inaugurata la mostra sulla Grande Guerra a Vilminore. La mostra sarà visitabile dal 19 dicembre al 7 gennaio presso i portici del Palazzo Pretorio. Anche questa settimana saremo immersi nell'atmosfera natalizia. Natale in Contrada è la manifestazione che dal 19 dicembre al 6 gennaio animerà Ardesio e le sue frazioni. Durante le festività, luci, decorazioni, sculture e installazioni illumineranno e riscalderanno gli angoli più suggestivi di Ardesio in un perfetto clima natalizio. Le storiche contrade del Borgo si sfideranno nel concorso Natale in Contrada per il miglior annestimento in tema natalizio. Per informazioni potete visitare il sito www.prolocoardesio.it. Sempre sabato 19 dicembre inizierà a colere il Paese dei Presepi, concorso in Contrada, mentre a Schilpario la Via dei Presepi. Entrambi i concorsi per il Presepi più bello saranno aperti fino al 5 gennaio. Sabato 19 dicembre ci aspetta il Party Par a Parre. Aspettando il Natale, il Paese sarà in festa con mercatini, gonfiabili, DJ set, artisti di strada e molte altre sorprese. E sempre sabato, ma questa volta a Clusone dalle 9 alle 18, mercatino degli orbisti e degli artigiani presso la piazza Manzù, mentre per le vie del centro storico animazione e intrattenimento. Anche questo weekend l'Albino Christmas Village, un magico Natale a Cene, i mercatini a Castione della Presolana e la casa di Babbo Natale a Gandino, ci aspettano per immergerci nel Natale. Infine, due suggestivi concerti ci alleteranno il sabato sera. A Gandino, concerto del Giubileo in occasione dell'Anno Santo della Misericordia, presso la Basilica di Santa Maria Assunta. E a Oneta, musica di Natale presso la Sala Polifunzionale. Sabato 19 dicembre a Gandellino, torna al consueto appuntamento con i percorsi turistico-culturali. Due campanili per una parrocchia. La parrocchia intitolata San Martino Vescovo è un edificio apparentemente semplice ma ricco di storia. La chiesa superiore, più moderna e spoglia, la cripta affrescata dal pittore contemporaneo Angelo Borgonovo e la piccola chiesa antica, meno nota ma ricca di fascino. Successivamente, il consueto aperitivo presso il tennis bar. La partecipazione è gratuita, mentre la prenotazione è obbligatoria chiamando il 342 38 97 672. Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.valseriana.eu. Arrivederci e buona serata. Promoserio Eventi Eventi e manifestazioni della settimana in Valseriana e Valle di Scalte Grazie a tutti i nostri amici.